Prestate bene attenzione ragazzi perché nel video di oggi io farò ricorso all'esperienza datami dai miei traumi per aver studiato 21 milioni di lingue per il bene superiore e darvi dei consigli che se mi avessero detto una di queste cose quando ero a scuola mi sarei evitata tanti di quei pianti la sera tardi che non vi dico. Hello Cherries benvenuti e bentornati sul mio canale io sono Sakuri e oggi un video che vi può svoltare la vita da così a così se studiate qualche lingua straniera veramente vi darò in questo video qualche trucchetto per studiare non solo il norvegese ma qualunque lingua straniera in modo un po' più divertente un po' più leggero e meno traumatico. Prima di iniziare come sempre come da contratto io vi ricordo se volete di supportarmi iscrivendovi al canale lasciando un mi piace o un commento sotto il video attivando la campanellina delle notifiche per ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video e se volete potete comunicare con me tramite gli altri social che uso per essere in contatto con voi Instagram Facebook e Telegram. Doverosa premessa ogni persona è diversa ogni persona è a sé quindi non è detto che un metodo una strategia che funziona per me funziona anche per te. Quindi io in questo video vi elenco alcuni trucchetti che potete usare per sviluppare le diverse abilità o capacità che noi dobbiamo apprendere quando ci approcciamo allo studio di una lingua straniera. Vale a dire vocaboli, grammatica, produzione orale, comprensione orale, produzione scritta, comprensione scritta. Calcolate che di trucchetti, esercizi, metodi, strategie ce ne sono a centinaia io ovviamente non posso in questo video elencarveli tutti. Primissima cosa da fare quando si impara una lingua straniera è imparare i vocaboli. Imparare, sapere tante parole, avere un vocabolario il più possibile ampio ci aiuta veramente tanto a esprimerci in modo appropriato e in modo più preciso. Imparare i vocaboli è noioso? Assolutamente sì, anche perché noi di solito siamo abituati a un approccio all'insegnamento della lingua che è il seguente. L'insegnante, se ci va bene ce li legge, se no ci dice leggeteveli voi da soli dal libro, ci fa imparare una lista di vocaboli relativi a un determinato argomento, a un determinato ambito e poi dopo qualche giorno, dopo qualche settimana ci propina la famosa verifica sui vocaboli. Comunque un metodo che io, diversi metodi io uso con i miei studenti perché è una delle cose proprio un po' più tediose da fare, li ho provati su di me e li ho provati anche con loro, funzionano molto bene, dico con tutti però la maggior parte degli studenti funzionano e sono contenti di questi metodi. Ripetizione tramite app quali Duolingo o Babbel, ad esempio, che se non ci aiutano nell'apprendimento di altre skills linguistiche per i vocaboli vanno più che super bene, quindi sono consigliatissime. Set di Flashcard Quizlet, che è un metodo che io sto usando tantissimo sia per me che per i miei studenti, vedo che funziona, la maggior parte piace, ad alcuni no, devo dire che alcuni non ci si trovano proprio, però la maggior parte si trova bene. Funziona, vi ho spiegato in altri video come funziona esattamente questo metodo, altrimenti cosa potete fare? Scrivervi dei post-it in giro per casa, specialmente se dovete imparare magari il vocabolario relativo alla casa. Io poi vi do degli input così, ma voi potete essere creativi e farvi venire altre idee. Non so, io devo imparare tutti i mobili di casa, allora sul frigorifero mi scrivo, lo sto imparando in tedesco, mi scrivo frigorifero in tedesco sul frigorifero con un post-it. Sul forno scrivo forno in tedesco. Io sono sottoposta a questi bigliettini tutto il giorno, li vedo in continuazione, alla fine li imparo anche se non voglio. Questo è anche un metodo che funziona veramente tanto. Per altre persone, magari, se hanno una buona memoria visiva, funziona farlo con le immagini. Mi stampo una foto di tutte le parti del corpo, un disegno della mano con scritto mano in francese e io ogni tanto le guardo e alla fine le imparo. Si può fare sulla carta, si può fare online, ci sono diverse piattaforme che vi danno la possibilità di fare queste cose. Ad esempio, con le foto io l'ho fatto per i miei studenti di spagnolo qui in Norvegia. stampo, in questo caso stavamo imparando gli animali, ho stampato dei disegni così, con la parola in spagnolo. Io ogni tanto glieli faccio vedere, magari glieli metto sul banco e dico, guarda oggi ne impari 5, hai 3 minuti per impararne 5, ok? Le faccio vedere un po' e poi alla fine li prendo, copro e dico, questo come si chiama? Ah ok, va bene, l'ha imparato, benissimo. Passiamo al prossimo, questo come si chiama? E via dicendo. È molto divertente, specialmente poi con i bambini funziona benissimo, anche perché, vedete, sono tutte cose colorate, con i disegni. Magari gli dico, guarda, scegli ne 3 disegnali sul tuo quaderno e scrivi a fianco il nome in spagnolo, loro lo fanno, sono super contenti. Magari per gli adulti, non lo so, potete anche non investire così tanto tempo e energia nella preparazione di queste cose, però secondo me funziona stra bene anche con gli adulti, però per i bambini è super super consigliato. Un'altra cosa che uso è tabù, è un gioco di società, non so se lo conoscete, praticamente la versione classica voi avete una parola, questo qua è in inglese, ad esempio lo usavo con i miei studenti in inglese, avete una parola che dovete cercare di far indovinare ai vostri compagni di squadra o un'altra persona e sotto una serie di parole che non potete usare per descrivere questa qua, quindi, vabbè, ve lo traduco in italiano così ci capiamo. Devo far indovinare taxi, ma non posso dire macchina, non posso dire pubblico, non posso dire trasporto, non posso dire città, non posso dire... Oddio, come si dice in italiano? Quello che paghi? Vabbè, avete capito. Comunque, dicevamo, nella versione classica io ad esempio dirò ai miei studenti, ok, prova a far indovinare al tuo compagno questa parola qua senza dire queste. E questo sviluppa molto il vocabolario perché oltre al compagno a dover indovinare una parola, poi lo potete fare per ambiti. Io qua ho carte di tutti i tipi, cioè vedete, brutto, volare, un po' di tutto, popcorn, però lo potete fare, non lo so, magari siete a un livello più basso, con i negozi, con la verdura, con i diversi tipi di latticini, quello che volete. Io ne ho un'altra versione che adesso non trovo, con tutti i vocaboli relativi al riscaldamento globale. È una cosa che piace molto usare in classe. È utile per sviluppare un vocabolario relativo a una certa area, ma anche proprio per provare a esprimersi, a farsi capire. Quindi nella versione classica potete dirgli, fai capire questa parola senza usare queste. Per chi magari è a un livello un po' più basso, magari un livello base, a uno, a due, potete dire, prova a far capire questa parola usando queste parole qua. Ok? Un po' semplificato, funziona in entrambi i casi, appunto a seconda del livello. Potete molto adattarlo alla situazione, all'argomento, al livello, a quello che volete. Sulla grammatica c'è poco da dire, nel senso, qui bisogna sì, per forza fare il ricorso un po' più ai metodi classici, quelli noiosi. Però va anche bene così, nel senso normale. Diciamo che il consiglio che vi posso dare è quello di concentrarvi su una cosa per volta. Cioè, se state studiando lo spagnolo e non avete ancora imparato bene come si coniugano i verbi al presente, non proseguite con quelli al futuro, con quelli al passato, perché fate veramente un gran casino nella vostra testa. Quindi concentratevi su una cosa per volta, fate quegli esercizietti che si trovano sui libri che sono noiosi, però funzionano veramente bene. Fate anche magari gli stessi esercizi due, tre, quattro volte. Potete anche riempire un libro, cancellarlo, rifarlo dall'inizio alla fine. Fatelo perché funziona veramente tanto. Mettete in pratica, soprattutto quando studiate una regola di grammatica, non studiate la regola e punto, finita lì. Mettetele in pratica, provate a fare questi esercizi, provate a usarla anche nel parlato, perché attraverso la ripetizione si impara tanto. Una cosa che funziona, cioè che aiuta molto quando si impara una nuova lingua, specialmente con la grammatica, è avere una buona conoscenza della grammatica della propria lingua madre. Questo significa che se a scuola non avete studiato bene la grammatica siete spacciati? No, significa che semplicemente che magari rispetto ad una persona che era un drago in grammatica ci vorrà un po' più di tempo, un po' più di energia, un po' più di impegno. Comprensione scritta. Comprensione scritta vuol dire nient'altro che imparare a leggere dei testi e capire il senso, capire quello che c'è scritto. Quello che vi posso dire molto in generale, anche qua ci sono tante strategie, posso entrare nel merito in altri video, fatemi sapere qui sotto, magari se volete sapere che metodi uso per filo e per segno a scuola come studenti. Una cosa però fondamentale che vi voglio dire è quando voi imparate, iniziate a studiare una lingua, magari avete 15 anni, magari ne avete 20, 25, 50, ok? Ma quando voi iniziate a imparare una lingua straniera, in quella lingua voi non avete 15 anni o 20 o 25, 50. All'inizio voi avete il livello di conoscenza della lingua, di capacità di espressione di un bambino magari di 5, 6 anni. Quindi cercate di leggere documenti, prodotti, libri al vostro livello. Se voi siete ad un livello A1, A2 e avete il livello di conoscenza della lingua di un bambino di 6-7 anni, molto difficilmente riuscirete a leggere un articolo di giornale sulle lezioni, un articolo di giornale sulla pandemia o un documento scientifico che parla del surriscaldamento globale. Cercate sempre di leggere cose al vostro livello. Leggete anche magari libri per bambini, leggete Cappuccetto Rosso. Sarà noioso magari, non ve ne frega niente, di leggere Cappuccetto Rosso in cinese, ok? Però vi aiuta? Sono vocaboli a livello quotidiano, sono una grammatica, una struttura della frase molto semplice, di livello basso, comprensibile da chi è a un livello A1, A2. Non vi arricchisce a livello di cultura generale, ma sicuramente a livello di apprendimento della lingua vi è più utile, piuttosto che leggere un testo di tre pagine di un argomento super difficile, di cui il 95% delle parole non le capite, vi stressate, pensate di essere stupidi, di non avere imparato bene, vi demotivate e non andate più avanti. Comprensione orale, quindi capire quando la gente parla, anche qui vale lo stesso discorso. Ovviamente se parlate con la gente vi dovete adeguare al livello del vostro interlocutore, quello che vi dice, quello è, potete chiedere, magari puoi parlare più lentamente, puoi usare parole più facili, però non sempre è automatico che la nostra richiesta venga ascoltata, o magari non lo fanno opposta, però magari si si adegua a quei cinque minuti e poi incomincia a parlare senza pensare, comincia a usare parole, strutture più difficili. Se però studiate da soli, sottoponetevi a prodotti che siano sempre al vostro livello. Come dicevamo prima, avete cinque anni, quando iniziate a studiare lo svedese, guardate programmi per bambini, guardate cartoni animati. Come dicevo in un altro video, cartoni animati Disney, ad esempio, sono super super utili, anche perché da piccoli li abbiamo visti tutti, magari li abbiamo visti cinquecento volte, ce li ricordiamo tutti. Ormai adesso abbiamo tutte queste piattaforme, Netflix, Disney+, tutte queste cose, quindi è anche facile magari trovare prodotti in altre lingue. Se avete dei DVD a casa, io ad esempio ho tutti i DVD in cofanetto di Harry Potter, ci sono mille lingue e io posso guardarlo in mille lingue. Se non volete guardare roba per bambini, perché mi sembra noioso, guardate magari dei film o dei telefilm, che ovviamente ci vuole un attimino di ricerca per trovare questi prodotti nella lingua che state studiando, però a me non è anche così difficile ormai oggigiorno, no? Guardate, magari vi piace tantissimo Friends, lo avete visto cento volte in italiano, dialoghi li sapete a memoria? Benissimo! Guardatelo nella lingua che state studiando, guardatelo in giapponese, se state studiando il giapponese. capirete molto di più che non guardare una cosa nuova, che non guardare magari un programma TV giapponese, che non guardare un film di produzione giapponese che non esiste in nessun'altra lingua. Quando guardate qualcosa, usate i sottotitoli, quindi vi aiutano, ma fino a un certo punto. Secondo me, quando siete a un livello abbastanza basso di comprensione della lingua, magari a 1 o a 2, vi aiuta. Già da un B1, B2 comincia ad essere veramente disturbante, quindi quando cominciate a vedere che i sottotitoli più che aiutarvi vi infastidiscono, provate a toglierli, magari capirete di meno, ma sicuramente il vostro cervello sta imparando di più. Produzione orale, ovviamente, cioè si parla di imparare a parlare una lingua. Se non avete madrelingua o altre persone, magari anche non madrelingua, ma che stanno studiando la stessa lingua a disposizione per acciuffarli e parlargli per 6 ore di fila, può essere difficile. Potete parlare da soli, sembrerete pazzi, sì, chi se ne importa. Un esercizio che io veramente trovo molto utile si chiama shadowing, dall'inglese shadow. Praticamente si tratta di ascoltare un audio in una lingua straniera. Potete prendere materiale dal web, potete usare dei film o telefilm, cartoni animati che vi piacciono. Di solito è anche più interessante se vi piace quello che state ascoltando. Vi serve l'audio e vi serve la trascrizione, ok? Quindi o la trovate online, la trascrizione, o ve lo scrivete voi, se siete in grado, scrivete una sorta di manoscritto. Mentre voi ascoltate, quello che viene detto, ripetete leggendo all'inizio e poi provate a farlo senza leggere. Questo vi aiuta a diventare più fluenti nel parlato, ad acquisire una migliore pronuncia, ad acquisire una migliore intonazione, quindi a cercare di riprodurre meglio l'intonazione della lingua straniera che state parlando, perché sapete che le lingue straniere non hanno solo una diversa pronuncia rispetto alla nostra, ma anche una diversa intonazione e ognuno ha la sua. Quindi anche questo vi fa suonare molto di più come dei madrelingua. Non è la cosa fondamentale, secondo me, quando si impara una lingua straniera, però è bello saper parlare bene. Vi aiuta anche a memorizzare determinate strutture, magari qualche regola di grammatica, memorizzare anche dei vocaboli, perché no? Quindi allena tante skills, principalmente la produzione orale, ma è utile in tanti ambiti. Se vi interessa, vi faccio un video, scrivetemelo qua sotto, ma secondo me ve lo faccio lo stesso perché mi piace tantissimo questa tecnica. E poi, soprattutto all'inizio, si fanno un sacco di errori, si fanno dei mischiotti, è super divertente. Se lo fate da soli, sì, è divertente, però farlo in gruppo, cioè veramente, noi a scuola ci facciamo di quelle grasse risate che vi potete immaginare. Sbaglio anch'io, perché tante volte poi ovviamente mi incarto per cercare di seguire quello che viene detto, magari anticipo, sbaglio una parola, le metto due insieme, quindi si ride tantissimo, specialmente in gruppo. Produzione scritta, produzione scritta forse, cioè scrivere dei testi, qualsiasi cosa, è forse la skill un po' più difficile da allenare, soprattutto se studiamo da soli. Ovviamente se lo facciamo a scuola, chiaramente ci verrà chiesto dall'insegnante di scrivere un testo, una mail, quello che volete, e ce lo correggerà se studiamo da soli. È un po' più difficile perché, sì, vabbè, noi possiamo anche impegnarci a scrivere una cosa di cinque pagine, però poi come facciamo a sapere se quello che abbiamo scritto è giusto, no? Quindi magari potete trovare un amico madrelingua o che sa la lingua o qualcuno che sta studiando con voi per farglielo correggere. Magari non salteranno fuori tutti gli errori, però, vabbè, qualcosa, comunque sempre meglio di niente. potete provare a scriverlo voi, lasciarlo lì, correggervelo dopo un po' di tempo, anche questo dovrebbe aiutare a far saltare fuori qualcosina. È la skill un po' più difficile anche perché, comunque, difficilmente siamo obbligati a scrivere qualcosa, no? in una lingua straniera. È molto più facile che ci troviamo nella situazione di dover parlare o ascoltare, ad esempio, o leggere. Leggere tanto aiuta a diventare dei buoni scrittori, questo, cioè, nelle lingue straniere ma così anche in italiano. Se notate, chi scrive peggio è chi legge meno, di solito. Una cosa che vi posso dire, così, due consigli generici proprio quando si scrive, occhio alla struttura del testo, potete trovare online informazioni e delle strutture preimpostate, no? Di come si scrive tal tipo di testo, quindi, studiate inglese, come scrivere una mail in inglese, come scrivere un testo argomentativo in inglese, come scrivere un testo descrittivo in inglese, ci sono proprio delle strutture, delle strategie che si devono usare a seconda delle diverse tipologie di testo quindi cercate queste informazioni se studiate da soli, cercate queste informazioni e cercate di seguirle, no? Un'altra cosa a cui dovete fare attenzione nello scritto è linguaggio formale e informale, cioè nello scritto di solito bisogna essere un po' più informale a meno che non stiamo scrivendo un messaggino in chat a un nostro amico, allora possiamo usare abbreviazioni, slang, eccetera, eccetera, però normalmente dobbiamo scrivere dei testi più seri, più accademici o per lavoro, insomma, bisogna stare attenti a queste cose, normalmente quello che vale un po' per tutto è non usare slang, non usare abbreviazioni, usate delle frasi che abbiano una struttura decente, non interrotta mille volte, non mettete magari puntini di sospensione, date una struttura proprio anche visivamente al vostro testo, cioè un'introduzione, un corpo del testo, dividete i paragrafi, la conclusione, anche nelle email, non scrivete una mail, senza punte, la punteggiatura, ragazzi, io sono una nazista della punteggiatura, fate molto attenzione a quello, ci sono informazioni anche online o sui vari libri di come usare la punteggiatura nelle varie lingue, perché non tutte le lingue hanno esattamente le stesse regole anche per la punteggiatura, quelle di base ovviamente valgono per tutte. Un paio di suggerimenti extra se conoscete altre lingue straniere fate riferimento a quelle o se non le conoscete anche fate riferimento alla vostra lingua madre, perché molte volte specialmente per la grammatica e per i vocaboli ci sono delle somiglianze tra le varie lingue, ad esempio in norvegese lavoro si può dire job come dall'inglese job ok? Quindi se voi sapete l'inglese questo magari vi aiuta a creare delle connessioni nella vostra testa e a ricordare più facilmente oppure si può dire anche arbeid come dal tedesco arbeid non ricordo più sono tre anni io con i miei studenti lo faccio tantissimo se c'è una parola in spagnolo che non riescono a capire dico ok però non pensare in norvegese prova a pensare in inglese se questa parola ti sembra simile a qualcosa ah sì allora è quella in inglese allora in norvegese così bravi ragionate imparare una lingua straniera non significa come ci hanno fatto entrare in testa forza a scuola imparare le cose a memoria assolutamente no cioè non funziona così proprio funziona se dobbiamo imparare a memoria la tale poesia e ripeterla in classe davanti a tutti ma non cioè quando si studia imparare a memoria è proprio la cosa più stupida che possiamo fare perché se una cosa la impari a memoria te la puoi dimenticare se la capisci te la dimentichi più cioè o quantomeno se te la dimentichi è più facile che ti venga poi in mente perché tu ci hai ragionato ci hai speso del tempo cioè si è depositata in qualche modo nella tua mente no in modo più permanente che non imparando a memoria poi ciao avrete capito che non sono una fan dell'imparare le cose a memoria va bene niente ragazzi penso che questo video sia stato già sufficientemente lungo spero non tedioso spero un pochino utile fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete appunto che approfondisca qualcosa se volete se avete voi dei suggerimenti invece che possono essere utili a me o agli altri utenti ma chiunque sempre disponibile a imparare qualcosa di nuovo grazie per aver visto il video fatemi sapere cosa ne pensate mi raccomando un bacione adebra ciao ciao ciao